La schiena dei signori cavalieri, si alza la testa e la schiena dei cavalieri e si gira! Bravi corsi signori, è uno spettacolo vedere e ribadare, con tre! Ancora una volta, ricontri signori! E due prima, più di prima, contro e ancora! Troppo cerchio così, perché adesso le signore dame alzano di nuovo le braccia verso l'arte, i signori cavalieri si erano fuori la testa, si abbassano le braccia delle signore dame, si alzano quelle dei cavalieri che vanno sulla testa delle signore dame e si chiudono al centro, signori! Girare! Ma che bravi che siete! Contre! A meglio quanti ne stiamo! Contre! Ma che bello suonare per voi questa sera, vedete e ribadare così! Contre! E per l'ultima volta, signori, ricontri! Chi ha un po' le braccia dei cavalieri? Da adesso fuori ogni cavalieri riprende la propria dama e ci ripallo! E come prima, più di prima, signori, scopo bravo! La propria dama è la propria dama e si cammina! Dammi sempre al centro, cavalieri sempre all'esterno, regola fissa di questa quadriglia! Circolare! 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 Contre! A quella volta, signori, come prima e più di prima, con tre! e poi, come prima e più di prima, con tre! E per l'ultima volta, signori, scopo bravo! ferma e non ti muove per nessuna ragione al mondo, il signore subito dopo con la camicia a strisce, parte da sotto a fonte, vai, vai, uno dietro l'altro signori, fermala Franco, non ti muovere, facciamo girare solamente loro, vai, sulle braccia tutti quanti e quando arriva il vostro turno si parte. Buoni così signori, all'uscita sulle braccia, sulle braccia, sulle braccia, all'uscita tutto il fonte ci dobbiamo fare signori. Alza uno dietro l'altro signori, arriva anche il vostro turno. Mamma quanti vestiamo questa sera per questa guerrilla. Partono le ultime coppie. Vai Franco. Vai di nuovo, altro giro signori, vai, vai. E all'uscita del fonte, le coppie che escono sotto braccio e si cammina all'uscita. All'uscita sotto braccio, sotto braccio e camminare all'uscita. All'uscita ragazzi, sotto braccio. Sotto braccio, all'uscita e si cammina. Signori, all'uscita lì in fondo, sotto braccio e si cammina. Circolare. Sotto braccio, signori, all'uscita sotto braccio. Ancilla, là un'uscita dei riña deil. Noi non c'è... Sotto braccio, preparuno sul mercato. Salvainkle, alle le persone, affуждateит... Ultimi coppie che partono, signori Contri! Ancora volta Contri! Sto facendo così, fermi là, perché adesso la dama va davanti al cavaliere, si gira di schiena e mi alza le braccia verso l'alto, la signora dama alza le braccia e il signor cavaliere gli prende le mani. Bravissimi, così come sono queste coppie si circola e si cammina! Secondo qualcuno questa è la figura più semplice di tutta la quadriglia, è difficile arrivare solamente adesso, perché si fa il Contri senza lasciare mai le mani della dama e del cavaliere, ci proviamo Contri! Ci riproviamo signori, 1, 2, 3, Contri! Vediamo se il giro di ripetizione va meglio! Contri! Per l'ultima volta, 1, 2, 3, Contri! Per l'ultima volta, 1, 2, 3, Usa aperta dove�пол tampare! Per l'ultima volta, 2, 4, Scassa! Per l'ultima volta, 2, 61, Spo 네, tena già! Ma va, come va, la vediamo noi? E qui su sta messa nella obligationshe rischia, perché 7 è costruito Ans importante perché uso nei bombesi...